Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale Io sono Diego e sono qui oggi per portarvi un tutorial veramente molto utile e che secondo me apprezzerete Oggi sono qui per spiegarvi come guardare serie tv e film in altissima risoluzione sul vostro dispositivo android Senza pubblicità senza problemi in modo gratuito totalmente Che dire il tutorial è veramente molto semplice ma come vedete come se mi seguite da un po' sapete che l'ho già portato sul mio canale Questo perché ragazzi il video vecchio adesso funzionare funziona ma non è più efficiente come prima Quindi ne ho portato uno nuovo che vi permetterà di fare tantissime cose in modo veramente utile, semplice, bello E poi fidatevi che la differenza la fa Inoltre l'applicazione che utilizzavo prima non è più compatibile col Play Store più che altro l'hanno rimossa Quindi se volete trovarla dovete andare su altri siti ed è un po' un problema Invece questa applicazione attualmente è ancora su Play Store Secondo me è più completa e nel caso però la rimuovessero non vi preoccupate che lascerò qua sotto un link diretto Che vi permetterà di scaricarla senza pubblicità e senza problemi Che dire ragazzi io devo salutare Francesco Visona e Most4Mode spero si dica così Che mi hanno seguito su Instagram, adesso mi piace in questo ultimo periodo sono stati gli ultimi a farlo prima del video E niente se non sapete bene di cosa funziona, di cosa sto parlando perdonatemi Ho fatto un piccolo contest su questo e sull'altro canale Praticamente tutte le persone che mi seguiranno su Instagram e che verranno notificate da Instagram Prima dell'ultimo video che, prima del video che registrerò verranno salutate le ultime due persone Quindi se volete essere salutati seguitemi su Instagram il link lo trovate qua sotto in descrizione Che dire ragazzi andiamo avanti con il video Inoltre ragazzi vuol dirvi che questo video è in collaborazione con videoblogs.com Ovvero un sito che vi mette a disposizione veramente tantissimi video, immagini e audio Per il valore di ben 5 milioni di contenuti in generale In totalmente royalty free Cosa vuol dire questo? Vuol dire senza copyright Fidatevi che attualmente trovare delle canzoni, dei pezzi di video O talmente anche delle immagini senza copyright ad utilizzare su YouTube È veramente molto difficile perché ormai le canzoni sono sempre quelle Le immagini sono sempre quelle E attualmente per chi fa lo youtuber sa benissimo che non si può sbagliare Non si può mettere una canzone con copyright Se non automaticamente vi si rischia il canale Ed è una cosa che non possiamo più effettuare noi Inoltre la cosa bella di questo sito è che mi mette a disposizione una prova di 7 giorni Tramite il link qua sotto in descrizione Che vi farà provare il sito completamente senza limiti Per 7 giorni in modo gratuito E potremmo quindi decidere di fare un abbonamento mensile, settimanale o annuale al sito Oppure no Io devo dire che sono veramente molto tentato a fare l'abbonamento Perché l'ho provato e ho utilizzato anche tantissime canzoni royalty free da questo sito Che non sono più sempre le stesse Le sto utilizzando anche in questo video E devo dire che è pieno di funzioni Che mi hanno dato moltissime idee per altri video E che mi hanno anche magari migliorato un pochino la qualità Negli ultimi video che sto facendo Che dire ragazzi Io vi lascio il link qua sotto per fare la prova di 7 giorni Che non vi lascia alcun obbligo di iscrizione La qualità come vedete è veramente altissima E niente Continuiamo con il video Come prima cosa dovremo recarci nel playstore Per scaricare l'applicazione chiamata Visi O Vesi Non so bene come si dica Comunque dovrete scrivere questo qua Andiamo quindi su installa Se quando voi state guardando questo video l'applicazione non sarà più presente Vi lascerò qua sotto un link Che vi permetterà di scaricarla in modo veramente molto semplice Senza problemi E l'applicazione sarà la stessa Come vedete la sta scaricando Pesa solamente 7 MB Quindi non c'è nessun problema di spazio Di memoria Di niente E' veramente molto semplice scaricarla Aspettiamo che venga scaricata Ed ecco qua che dovrebbe comparire qui Eccola qui perfetto Spostiamola sulla nostra pagina principale E andiamo a aprirla con un click L'applicazione si presenta in modo veramente molto semplice E poi vi andrò a farvi dire che A dimostrarvelo Perché è una cosa veramente assurda E devo dire che mi piace veramente moltissimo Perché ha delle funzioni ottime Andiamo quindi su continua senza account Perché non c'è bisogno di collegarci a Google Forse per tenere conto dei film In senso vi spiego Questa applicazione a differenza delle altre Vi da veramente moltissime informazioni Vi permetterà di vedere delle date Con gli ultimi aggiornamenti Per farvi vedere cosa hanno cambiato Cosa hanno aggiornato Qua avremo invece la possibilità di inserire un link Direttamente ad un video Per farcelo vedere senza pubblicità Questo magari è un link di un video Preso di un film streaming Di un sito particolare Oppure vi permetterà di condividere Quel link A una Chromecast Quindi se volete vedere Un filmato In televisione E avete il Chromecast Basterà ad inserire il link qua sotto Condividere dal cellulare A Chromecast Per vederlo direttamente in tv Inoltre qua vi permetterà di vedere Quante ore, giorni, minuti Abbiamo passato a vedere Dei film o delle serie tv Da questo servizio Per vedere quanti film abbiamo guardato Quante serie tv E quanti episodi in totale E' veramente una cosa molto carina Per rendersi conto Di quanta vita abbiamo buttato No adesso sto scherzando Però si hanno ragione Comunque a parte cavolate A noi ci interessa la sezione I miei canali Nei quali vorremmo andare a raggiungere subito Un canale che vi consiglio Ovvero www. Perdonatemi per la tosse Ma mi sono appena svegliato E sono un po' raffreddato www.ilgeniodellostreaming.cc Oh Geniodellostreaming.cc Ok questo qua ragazzi E' uno dei siti Che vi consiglio di più Perché questa applicazione L'ha reso compatibile Come funziona Se questa applicazione Rende un sito compatibile Lo vedrete in questo modo Lo vedrete diviso per film E per serie tv In modo senza Senza alcuna pubblicità E senza alcun problema Come vedete E' veramente molto semplice Si vede che l'applicazione Su questo sito L'ha reso compatibile Inoltre potremmo decidere Quali film vedere qua davanti Cioè le ultime uscite E invece se un sito Non sarà compatibile Come in questo caso Questo sito qui Ovvero www.serietv.com Che è un altro sito famoso Ma non so per quale motivo Ancora non è stato aggiunto All'interno di questa applicazione Come compatibilità Ecco Non verrà visto in questo modo Come vedete Non ci sarà la freccetta Ma ci sarà il google chrome Questo vuol dire Che verrà aperto con il browser E quindi sarà uguale A vederlo da internet E sarà problematico Perché ci saranno le pubblicità Sarà difficile fare delle ricerche E così via Comunque qua ci sta un piccolo bug Nell'apertura del browser Quindi vi consiglio in questo caso Di chiudere e riaprire l'applicazione Quando vi si apre un sito con il browser Che così Ogni volta che andate indietro Si riapre Quindi Niente Meglio non utilizzare i siti non compatibili Ma ve ne ho consigliato uno veramente molto buono A mio parere Infatti Il genere dello streaming È uno dei miei preferiti Andiamo quindi a rimuovere Questo serie tv.com Comunque stavo dicendo Il genere dello streaming Vi permette di avere film E serie tv di tutti i generi Infatti È veramente universale Sia per le serie tv Che per i film Ad esempio Andiamo a cercare Un film Andiamo a cercare Su film Harry Potter Che è uno dei classici Vabbè Che adesso mi viene in mente Andiamo a cercarlo Automaticamente Farà una ricerca Tramite i tag Tramite il cast Tramite le persone Che si chiamano Harry Che quelle che si chiamano Potter Dei film che possono entrare In questo nome Come vedete Sono veramente moltissimi Ma in prima fila Troviamo quelli veri e propri Andiamo sempre a cliccare sul primo Come vedete Inoltre a darci una panoramica Quindi delle informazioni sul film La durata Quando è uscito Dove hanno fatto Tutte queste informazioni qua Avremo anche la possibilità Di vedere il cast Cosa veramente molto carina Che devo dire Ci fa fidelizzare Ancora di più l'applicazione Quindi Ho sbagliato Perdonate Mi sono andato indietro Ricerchiamo Harry Potter Cerca un film Un film Harry Potter Ok scusatemi Ma ho cliccato Ho fatto dei danni Andiamo Di nuovo qui Clicchiamo sul primo E per poterlo vedere Sarà veramente molto semplice Ovvero basta Da cliccare sul tasto Play E qua dobbiamo scegliere Uno dei due servizi Che in questo caso Sono uguali Basta cliccare sul primo E vedere se funziona Se no sul secondo Così via Qua potremmo riprodurre Scaricare Aprire con altri programmi E riprodurre con i sottotitoli Il filmato Quindi veramente tantissime cose E poi ragazzi Qua vi basta avere Una buona connessione Nel mio caso È abbastanza buona Ma devo dire Anche con una 3 mega Andavo veramente molto bene Il video si vede Molto molto bene Molto veloce Adesso lo stoppo Se no mi danno problemi Con lo streaming Comunque è lui Potremmo variare il tempo Come vedete Comunque si è lui Hagrid Harry Potter Tutta questa gente qua E niente Il filmato si vede veramente Molto molto bene È veramente molto comodo Non abbiamo alcuna pubblicità E che dire ragazzi La cosa bella È che adesso Se andiamo indietro Ci richiamo sulla dashboard Come vi avevo detto Andremo a vedere Abbiamo ben Qua in basso Scusatemi Abbiamo ben 2 ore 23 minuti E 37 secondi Di visite Questo perché abbiamo mandato Avanti il film Abbiamo un pochino rubato Ecco Comunque se veramente Voi lasciate come Che tutto vada Per il verso giusto Avrete veramente In quel caso Abbiamo visto tipo 5 secondi 2 secondi Quanto è E verrà scritto 2 secondi Una volta abbiamo visto Hai guardato un film Comunque lo stai guardando 0 serie tv E 0 episodi Questa è una cosa Abbastanza carina Inoltre Cosa utilissima Direi Chica Del programma È che se ne andiamo su Ci permetterà di continuare A guardare il filmato Con un click Questa è una cosa Più che utile Che magnifica Perché Non so se stai guardando Delle serie tv E siete rimasti All'inizio Di una Di un episodio E magari Non vi ricordate Qual era l'episodio O qual era Il minuto E dovete farvi Tutti e quanti Gli episodi E controllare Cosa fa Assediosissima In questo modo Bastara un click Per ricaricare A quel minuto Il film O la serie Quindi veramente Fantastico E qua ci consiglia Delle altre Film che potrebbero Piacerti In questo caso Abbiamo cercato solamente Harry Potter Quindi trova solamente Harry Potter Quindi ragazzi Io veramente Stimo questa applicazione Potremmo modificare Varie cose Pulisci i dati In senso Potremmo rimuovere Ad esempio Azzerare Diciamo il counter Del tempo Utilizzato Sull'applicazione Comunque devo dire Questa applicazione La stimo ovviamente Perché è fatta Molto ma molto bene Non so se è fatta Da italiani Ma non credo Però visto che Rispondono In modo molto corretto In italiano Rispondono in inglese Quindi potrebbe essere Semplicemente Un'applicazione inglese Ma gestita Da più persone Ecco quindi Non lo so Comunque è veramente Un'ottima applicazione Vi consiglio di Di provarla E niente ragazzi Da Diego è tutto I link li trovate Qua sotto in descrizione Lasciate un bel mi piace Una bella iscrizione Se vi è piaciuto E seguitemi su Instagram Ragazzi Da Diego è tutto Noi ci vediamo la prossima Ciao belli